All'Università di Teramo sta per terminare il mandato del rettore Dino Mastrocola che scadrà il 31 ottobre, ma il suo successore si saprà l'11 giugno quando corpo docente, personale amministrativo e rappresentanze studentesche saranno chiamati a scegliere tra due aspiranti rettori. Dopo la conferma di Salvatore Cimini, direttore generale uscente dell'Ateneo e Ordinario di Diritto a Scienze Politiche, è arrivata l'ufficialità di Cristian Corsi, professore ordinario in Economia Zendale. Già preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, oggi direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione. Abbiamo depositato il programma che è stato frutto di un anno di incontri, di riunioni di gruppo, di assemblee, un programma molto dettagliato che va a indicare la strada più giusta da percorrere, per i progetti da realizzare per il prossimo sessegno, per definire al meglio la crescita del nostro Ateneo e dell'Università di Teramo. Percorsi sono tre le strategie su cui bisogna lavorare per far continuare a crescere l'Ateneo. Con strumenti di Information Technology e di Intelligenza Artificiale, una nuova area di reperimento di risorse europee, uno stretto collegamento tra l'Università di Teramo e Bruxelles per reperire e per partecipare a progetti europei sempre di grande valore e supporto delle nostre attività di ricerca. E poi la terza missione, un rapporto sempre più stretto con il territorio, ma la realizzazione dei tre progetti strategici Masterplan. La cittadella della cultura, il raddoppio dell'ospedale di medicina veterinaria, gli impianti pilota. Sono tre progetti che pesano oltre 60 milioni di euro, che andranno a ridefinire lo sviluppo di didattica, di ricerca e di terza missione a livelli altissimi per il nostro Ateneo. Le azioni proposte da corsi intendono in particolare incidere sulla qualità della vita degli studenti. Devono essere tutti parte attiva di un grande processo di rinnovamento, di un grande processo di ridefinizione dei modelli organizzativi, gestionali, informativi e di comunicazione. Sono sicuro che tutti insieme per i prossimi sei anni andremo a scrivere una delle pagine più belle di grande sviluppo del nostro Ateneo e del nostro territorio.